Salve, mi chiamo Andrea Anastasio, sono qui nello stand nuovo di Foscherini per presentare e accompagnare due progetti nuovi. Bulimica, colorata, veloce. Foscherini in tre parole è un pochino più difficile, diciamo un tentativo di dialogare con progetti che ancora non si conoscono. La creatività è colore. Tutti, credo di avere un colore per ogni momento della giornata. È un appassionato gioiello domestico. Rituale, notturna e fertile. Stivrai. Presente. Forma. Un'apertura verso tutto quello che non so. Ciao.